Attilio Urciuolo, servizi internet e siti web Ticket Rumac ha liste di attesa all'infinito all'astra di Avellino Anche stamani si sono registrate lunghe code davanti agli sportelli dell'ufficio di via degli Mimbo Nonostante l'impegno degli addetti ai lavori, la fila degli utenti a dire degli interessati al ticket Quotidianamente raggiunge il picco di ore e presenze Ore e di coda che spesso sfiancano anche i cittadini più pazienti Lei da quante ore sta aspettando? Dalle 9 sono circa 2 ore, ho visto i numeri di 17 persone 17 persone in un'ora e mezza poi non è possibile Ma a parte quello che il problema ribadisco come l'altra volta Pensavo che era cambiato qualcosa Invece no, ti danno un numero a 30 giorni Ti danno un numero a 30 giorni, insomma alla fine di un mese uno deve aspettare Voglio dire, chi non ha reddito, reddito basso Voglio dire, le medicine dovrebbero pagarle Dovrebbero pagare le analisi Cioè come si fa a pagare in un mese Le medicine, cose, la farmacia Non ti possono anticipare tutto questo Però la parte, la cosa principale che vorrei capire No, ma quelle che stanno sopra Stanno morgando Che mi hanno detto il dottore che sarebbe la dirigente Allora voglio dire, ma ci vogliamo dire una poca Tu scendi giù e ti umili una poca Alla fine diventi umili come i cittadini di cinema Fa per i dipendenti che stanno facendo I cittadini, persone anziane Che stanno... È venuto per sua madre Sono venuto per mia madre Ma alla fine voglio dire, oltre che mia madre Io mi posso dirvi in medicina e posso comprare pure io No, volendo, se posso fare pure un sforzo io Ma chi non si può permettere Io faccio pure per loro Perché alla fine se uno si fa una lotta uno E alla fine un vantaggio lo trovano tutti qua Però sta morgando Che sarebbe la dirigente Così mi hanno detto Ma è possibile che ti rifiuti sempre? Ma... Vabbè la invitiamo allora anche attraverso Il nostro microfono Ad avere un contatto con gli utenti Se scende dal piedistallo sta morgando Va bene, la chiameremo Grazie